Fausto Siddi, raccontare la storia dei sardi alle persone, che responsabilità è? Prima di tutto è una cosa bellissima, a cui tenevo tantissimo, proprio perché sono alquanto arrabbiato che nelle scuole i nostri ragazzi non studiano la storia della Sardegna, non studiano neanche la geografia della Sardegna, perché arriva sempre alla fine dell'anno. Sia le maestre in quinta elementare quando si fa l'Italia, sia i professori in prima media, invece di cominciare con la tua regione, con la tua nazione, ma anche per sapere, io sto qui e non posso non cominciare da me, non posso non cominciare dai miei padri, dai miei nonni, per andare poi avanti, per conoscere il mondo. E allora nasce da questo, dunque è un'esperienza bellissima poterlo fare, ringrazio Befi, ringrazio l'associazione Ibris, è per me un'esperienza stupenda e importante. Devo dire che gramscianamente sono partigiano però, nel senso che sento anche una specie di dovere patriotico per farlo. Quando lo dico ad alcuni miei amici mi prendono un po' in giro, ma io ce l'ho, non so che farci, ce l'ho. La Sardegna ha iniziale i coprini di Torre di Pietra, mille, due mila, sette mila quelle rinvenute, ma forse sono molte di più. La messa in scena, mettere in scena la storia, significa anche creare a volte inconsapevolmente una sovrastruttura che possa far piacere quello che stai raccontando. Quanto è importante la messa in scena, ha considerato anche che parli dei ragazzi che hanno bisogno di un certo ritmo, che hanno bisogno di una certa attenzione. Dunque, l'idea nasce nel voler essere una ballata. Tipo le ballate medioevali, che so, quelle che trattano di Federico II, o quelle dei pupi. Questa è l'idea che ho avuto da subito in testa come percorso attoriale da seguire. Per cui è proprio una cavalcata, una cavalcata nella storia, in tutte le varie fasi, in tutti gli accadimenti, in tutti i personaggi. Ed è proprio per questo che avevo bisogno di un percussionista. L'abbiamo trovato in un bravissimo Alessandro Azzori, con cui ci sono tanti paesaggi sonori diversi, sempre di tipo di percussioni, che mi permettono proprio di avanzare, proprio come se stessi dentro un cavallo, sopra un cavallo. Questo mi dà la possibilità di cercare di coinvolgere emotivamente i ragazzi, gli spettatori, e far sentire a loro quello che narro come cosa propria. Per cui il tentativo, almeno mio, è questo. Cercargli di fargli vivere il mio presente teatrale, raccontando la storia della Sardegna. Come se fosse oggi che avviene la scoperta dell'Ossidiana, come se fosse oggi che arrivano i Punici, che arrivano i Romani, che ci sono le battaglie, che arriva la nostra Eleonora, Gio Marian Gioi, e tutto, 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 come se fosse oggi. Ecco, l'idea attoriale è questa. Lavorare molto anche sul respiro, che è molto importante, è ciò che permette di unirci allo spettatore. Perché l'usola delle cose è sempre stata un crocce di miei pilotte, se non tutti gli arrivano per la prima volta. Qual è il momento della storia che ti esalta di più, della nostra storia? È poco maschile. Quando Eleonora d'Arborea decide da donna che spetta a lei prendere in mano la storia dei Sarti. È la cosa che mi fa venire la pelle d'oca. Pensando che quando è accaduto, cioè non è che è accaduto oggi, che è già difficile oggi, che diamo a una donna la possibilità di governarci. Immaginiamo nel Quattrocento. C'è una cosa straordinaria, con una intelligenza, con una forza. Poi mi piace pensare che è rimasta donna, nel senso femminile del termine, madre, moglie, e questa cosa mi piace, e figlia. È bello, bello, ecco la cosa che mi fa. Certo, devo dire che Gio Marianne Gioi, anche lui. Beh, ce ne sono tanti, io mi appassiono. Grazie.